Gentili telespettatori, buona giornata. Ecco che cosa ha detto la moglie Lilian di Aboubakar Somaoro al giudice per le indagini preliminari che ha interrogato per una lista di reati abbastanza lunga. E così lei, parlando con il giudice Lilian Muraketete, interrogata dal giudice, la moglie del deputato eletto con AVS, si è proclamata innocente nel corso delle dichiarazioni spontanee davanti al GIP di Latina, dicendo non ho comprato io i beni di lusso. Quindi nega che i soldi spesi con la carta di credito della cooperativa Caribou intestata in uso a lei non siano stati appunto spesi da lei. Lunedì di questa settimana lei è finita ai domiciliari insieme alla madre nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dei fondi di alcune cooperative pro-migranti da loro gestite nella provincia Pontina. Le due donne, madre e figlia, avrebbero utilizzato soldi pubblici per spese e investimenti personali, trasferimenti di denaro all'estero, gioielli, cosmetici, alberghi, borse, vestiti, parrucchiere, bistecche, insomma più i prelievi poi in contanti che sono stati fatti tutti i giorni di tutto l'anno. Quegli acquisti di beni voluttuari non li ho effettuati io, non ho mai avuto in uso carte di credito della cooperativa. Gli unici pagamenti da lei effettuati, ha sottolineato l'avvocato, sono stati gli stipendi più le spese per acquistare il cibo per gli ospiti della struttura. L'avvocato è Lorenzo Borré, l'avvocato di questa donna. Secondo il legale non le possono essere contestate condotte distrattive in quanto lei non l'ha mai spesi quei soldi, non ha mai utilizzato la carta di credito. Dieci minuti di deposizione, Murecchettete ha contestato anche di aver ricevuto una consulenza da 70.000 euro. Quei soldi non risultano nel mio conto corrente. L'avvocato nota poi come nella stessa ordinanza si fa riferimento a questi acquisti ma non li si riesce, non li si riferisce alla signora Murecchettete che non ha mai approvato bilanci relativi a queste spese. I due bonifici da 35.000 euro non sono mai stati accreditati. Ci sono poi 15.000 euro per l'acquisto di cibo e spese per le strutture e per l'assistenza ai migranti e il resto delle spese poco meno di 8.000 euro per il contratto di locazione di Bruxelles. Beh, insomma, negare, no? L'unica difesa è negare. Quando ti dicono hai speso all'impazzata più che potevi di tutto, hai comprato di tutto, di più, hai speso qualsiasi, hai comprato qualsiasi cosa che ti passasse sotto il naso, dice non sono stato io, non sono stato io, perché quella targhetta, carta di credito, lei dice non è mia. Adesso bisogna vedere, naturalmente se è stata arrestata lei e la madre significa che la guardia di finanza è andata sul sicuro, nel senso non puoi arrestare una persona presumendo che una carta di credito l'abbia usata lei. Deve essere una carta di credito che era stata apposta data a lei. Di solito, almeno, per quanto ne so io, quando lavoravo nelle aziende c'era la carta di credito aziendale, sopra la carta di credito aziendale c'era il nome e il mio cognome e quella carta di credito con quelle spese erano legate a me, a Luca Vincitore. Quindi se io utilizzavo quella targhetta, cioè se c'era una spesa riferita a quella targhetta era ovvio matematico che l'avessi fatta io, a meno che la targhetta, la carta di credito non fosse stata rubata e allora lì devi fare la denuncia, perché se la tua carta di credito viene rubata fai immediatamente la denuncia, perché poi con quella ci vanno a comprare chissà cosa. Quindi lei sta dicendo praticamente al giudice non l'ho fatta io, come se qualcuno di nascosto avesse preso questa carta di credito e fosse andata a fare spese, cosmetici e tutto il resto, bistecche, qualcuno che le sottraeva la carta di credito andava a fare tutte queste spese. Vedremo adesso perché nel prossimo video sto per andare a vedere che cosa ha deciso il giudice per le indagini preliminari, perché qui bisogna il GIP che cosa fa? Stabilisce se queste donne devono essere rinviate a giudizio o no, addirittura potrebbero essere scarcerate con tante discute, con tanto di scuse. Dipende da quello che deciderà il GIP. Funziona così, c'è prima un giudice che decide se si apre o no il processo, in base a quello che decide e lì è il futuro poi di questo procedimento. Potrebbe chiuderlo o potrebbe rinviare a giudizio e poi ci sarà un altro giudice ancora che dovrà valutare i fatti e poi prendere delle decisioni. Sta di fatto che soldi sono spariti e poi finiti proprio in Ruanda ristoranti, agenzia di viaggi, supermercato, casa Bruxelles e chi le ha comprate queste? Bene, cioè bene insomma. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video per vedere la decisione del giudice su Mureketete e l'altra signora Mucamizzindo. Vedremo che cosa avrà deciso il giudice, vi ricordo che poi c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove trovate video di politica, di notizie, di fai da te e poi i video di questi due canali, Teleitalia e Teleitalia Seconda Rete, sono condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia dove lì se vi sono interessati questi video li potete condividere con chi volete. Grazie a tutti e arrivederci, a presto, buona giornata. Grazie a tutti.